sia lodato gesù cristo prima di iniziare il video ti ricordo che ho preparato quest'area troverai qui sotto in descrizione il link dove poter accedere a tutti i miei libri visto che ci troviamo nella fine dei tempi ho preparato questi questi libri forse non ce ne saranno altri con le informazioni più importanti che ci servono per la salvezza e per essere poi strumenti di dio nei momenti difficili che stanno per arrivare quindi ti ricordo che qui sotto troverai il link per accedere a questi libri e quello più importante ovviamente questo qui ci clicchiamo e e il manuale di sopravvivenza della fine dei tempi un abbraccio dio ti benedica e se ti va lascia un commento e un like al video sia lodato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle oggi ci troviamo nell'articolo del mio blog dedicato al martire marcello van di 31 anni innamorato di gesù cristo abbiamo già portato sul canale youtube alcune parti che riguardano la sua biografia la sua testimonianza anche se questi video che abbiamo portato non hanno fatto non hanno prodotto commenti visualizzazioni sono video orari unici e sono per pochi cioè per coloro che vogliono amare veramente nostro signore gesù cristo allora oggi ci vogliamo focalizzare su una rivelazione importantissima da parte di nostro signore gesù cristo e della nostra amata vergine maria su una rivelazione che leggiamo qui la fine del mondo 6 gennaio 1946 ovviamente non si riferisce alla fine del mondo in questa data ma marcello e vorrebbe sapere da parte della santissima trinità quando sarà la fine del mondo e quindi richiamiamo noi lo spirito santo per leggere questo brano questa rivelazione questa profezia da parte della santissima trinità a barcello riguardo l'era di pace che verrà con la sconfitta dell'anticristo attraverso la seconda venuta di gesù attraverso i segreti di meggiugori e questi e quindi in questo tempo di pace dove si instaurerà sulla terra il regno della divina volontà rivelata luisa piccarreta ci immergiamo in questa lettura marcello van fa riferimento alla fine del mondo che parecchi dicono vicina la santa vergine gli risponde per quanto riguarda la fine del mondo non ne so proprio nulla lascia alla santa trinità la cura di occuparsene per me tutto quel che so è che gesù vuole ristabilire in questo mondo il regno del suo amore e per mezzo di questo legame dell'amore che gli vuole riportare l'unità nel mondo fare del mondo un regno che gli appartenga completamente il regno del suo amore diventerà una colonna di fuoco che sosterrà il mondo sul punto di sfacciarsi e se il mondo ritorna alla vita esso lo dovrà a questa fiamma d'amore prega bambino mio prega molto perché il regno dell'amore di gesù sia stabilito sulla terra in tutta la sua bellezza e che sia io stesso per il mio regno il mondo intero mi riconoscerà per sua madre e allora che capirà chiaramente l'amore di cui il mio cuore deborda per esso prega il regno dell'amore arriverà presto nel mondo e il mio regno verrà di seguito piccolo van sappi che io scelgo i miei apostoli in tutti i paesi e ve ne sono in ciascun paese si dividono in due gruppi con la medesima missione e lo stesso scopo l'espansione del mio regno nell'universo uno di questi gruppi si incarica specialmente di pregare l'altro di annunciare al mondo la venuta del mio regno io ti svelo questo gli apostoli che lavorano all'espansione del mio regno io li sceglierò esclusivamente nel regno dell'amore di gesù perché in quei tempi avvenire il mondo sarà diventato regno particolare di gesù mio piccolo van se ti annuncio queste cose e nell'unico scopo di esortarti alla preghiera riferisci bene a tutto il mondo che è sul solito fondamento della preghiera che si stabilirà il mio regno in questo mondo e tu dammi il nome di madre di tutto l'universo sia notato gesù cristo nel cuore immacolato di maria e qui la santa vergine maria spiega a barcello che riguardo alla fine del mondo lei stessa la santa vergine maria non ne sa nulla perché è una perché la fine del mondo sarà sempre una questione di scienza i pianeti che girano intorno al sole quelli della quelli del nostro sistema solare ma anche come quelli degli altri sistemi solari nelle varie galassie ogni pianeta ha una durata ha una propria durata che dipende poi anche dalla durata della vita del sole stesso per esempio il nostro sole è stimato che durerà la sua vita durerà altre 5 miliardi di anni per poi cominciare a diventare sempre più grande e risucchiare i pianeti intorno ad esso ecco che la terra farà la fine del mondo la possiamo identificare soltanto in questo senso quando il sole la inghiottirà come come accade anche nell'universo stesso e come sappiamo attraverso la scienza e questo per farci comprendere che non è importante focalizzarsi su queste su queste cose quello che è importante su quello che è importante focalizzarsi è la fine dei tempi la fine dei nostri tempi con la sconfitta di satana dell'anticristo per instaurare nel mondo due regni il regno di gesù quindi attraverso la gerusalemme celeste e poi il regno della vergine maria cioè il regno della divina volontà rivelata luisa piccarreta quindi attraverso la sconfitta dell'anticristo si realizzerà nel mondo questo regno di gesù e poi successivamente verrà il regno della divina volontà cioè le anime cioè gli abitanti della terra impareranno a vivere come vivono le anime in paradiso nella divina volontà quindi non solo fanno la volontà di dio ma la vivono in tutte le loro azioni volontarie e involontarie i pochi sopravvissuti ripopoleranno il mondo e vivranno sulla terra come vivono le anime dei nostri fratelli e sorelle che noi chiamiamo defunti in quei mondi in quei pianeti che noi chiamiamo paradiso ecco che la vergine maria ci parla di questi due gruppi di di persone il primo gruppo sono le anime che riparano e che pregano e quindi che nelle quali facciamo parte anche noi e che stiamo preparando attraverso la nostra preghiera i nostri sacrifici il nostro annunciare questo regno attraverso i messaggi le profezie mariane e quindi noi facciamo parte di questo primo gruppo che anticipa il regno di gesù poi in questo regno alcuni di noi insieme ad altre nuove persone verranno scelti esclusivamente dalla vergine maria per diventare il secondo gruppo di persone cioè quelli che avranno la missione di espandere questo regno nell'universo ora la parola universo è chiara non vuol dire portare il vangelo a tutte le estremità del mondo la parola universo vuol dire portare portare annunciare questo regno che gesù ha instaurato sulla terra e instaurerà sulla terra dove poi noi anche noi saremo presenti in questo regno quindi annunciare questo regno il vangelo gesù cristo la vergine maria il regno della divina volontà annunciarlo a tutto l'universo ma per fare questo avremo bisogno di viaggiare nell'universo ed ecco che le alternative per viaggiare nell'universo sono gli angeli gli angeli scenderanno dal cielo e ci trasformeranno avremo dei corpi nuovi dei corpi gloriosi immortali con i quali poter viaggiare nell'universo insieme agli angeli e annunciare il regno di dio a tutti i pianeti abitati che stanno aspettando la buona novella il regno di dio a tutti i pianeti abitati che stanno aspettando la buona